Intanto una piccola premessa che ritengo fondamentale, non tanto in questo momento possiamo parlare dell'anatomia del pavimento pelvico nei dettagli, ma quello che vorrei sottolineare è l'estrema interconnessione dei due sistemi che vanno a formare il pavimento pelvico, cioè il sistema di sostegno di tipo muscolare e il sistema di sospensione connettivale dei visceri pelvici e ormai è assodato che questi insieme costituiscono un'unità funzionale inscindibile. Un'altra piccola premessa è che la muscolatura del pavimento pelvico è costituita per la maggior parte da muscolo striato volontario. Questo è la base della possibilità di poter avviare un programma di riabilitazione. Quindi la muscolatura del pavimento pelvico, proprio per le sue caratteristiche, può essere sottoposta come qualsiasi altro muscolo a un'attività di potenziamento, di allungamento, di rilassamento, ma soprattutto la peculiarità di questo distretto è che spesso quello che manca su questa muscolatura, pur essendo previsto, diciamo, dal punto di vista fisiologico, però spesso manca il controllo della donna sulla muscolatura. Per noi, quando muoviamo un braccio, siamo un braccio, per noi è una cosa, è un meccanismo volontario, ma assolutamente meccanico. Questo spesso non c'è per quello che riguarda la muscolatura del pavimento pelvico. Infatti, quando noi andiamo a visitare una donna che ha problemi di incontinenze urinaria o di prolasso genitale, comunque una qualsiasi patologia della statica o della dinamica pelvica, ci troviamo di fronte a delle situazioni molto particolari. Soltanto in poco più della metà dei casi, queste donne, quando noi gli chiediamo di contrarre la muscolatura del pavimento pelvico, elettivamente esercitano una contrazione dell'elevatore dell'anno. Molto spesso esiste una co-contrazione dei muscoli agonisti, in particolare agli adduttori delle cosce, i glutei, una co-contrazione antagonista, quindi della muscolatura addominale. Qualche volta addirittura ci troviamo di fronte a un'inversione del comando perineale, quindi noi chiediamo alla donna di trattenere e la donna spinge e a volte abbiamo addirittura una situazione di tipo misto. Questo rende un pochettino più difficile avviare un programma di riabilitazione di questo tipo, di questo distretto muscolare. L'impiego tuttavia della riabilitazione perineale sta diventando sempre più diffuso e sta acquisendo una importanza sempre maggiore ed ha una vastissima gamma di possibilità di impieghi che vanno da quelli un pochettino più classici, tradizionali che sono l'incontinenza urinaria, il prolasso, la stipsi, ma anche quello che è il distretto posteriore, quindi l'incontinenza fecale. Addirittura le sindrome dolorose perineali possono trarre giovamento da questo tipo di tecnica, le disfunzioni genito-sessuali anche e soprattutto si è aperto un nuovo mondo in cui si pensa che sia bene trattare anche l'insufficienza muscolare perineale pura. Cioè io davanti una donna la sto visitando, sono il suo ginecologo di riferimento, sento che ha un'incontinenza, una insufficienza muscolare, non mi racconta ancora di aver problemi di incontinenza, non visualizzo ancora un prolasso, ma forse comunque quella è una donna che sarebbe bene riavviare ad un programma di riabilitazione del pavimento pelvico. Questo perché l'integrità del complesso sistema di sostegno, sospensione, quello che abbiamo visto, la parte muscolare e la parte diciamo tendinea, è alla base di un normale funzionamento del pavimento pelvico. Quindi se ho una muscolatura che non tiene, la maggior parte delle mie forze andranno a ricadere su quelli che sono i legamenti e le fasce e quindi potrò avere poi in futuro un distacco delle fasce. Quali sono i momenti più importanti nella vita di una donna che possono andare a slatentizzare delle problematiche del pavimento pelvico? Sicuramente la gravidanza, sicuramente la menopausa, soprattutto per i deficit a livello ormonale e estrogenico che si viene a creare, ma in particolare l'evento più importante che può portare alla nascita di disturbi del parineo è il parto. È ormai assodato ed è riconosciuto da tutti che nella vita della donna l'esperienza ostetrica costituisce il più importante fattore di rischio per il successivo sviluppo delle disfunzioni perineali ed è da qui che si è sviluppato tutto un filone della riabilitazione che va proprio ad iniziare a trattare la donna non quando ha già presenza l'incontinenza, non quando è già presente il prolasso, ma proprio fin dai primi momenti in cui si viene a trovare con le prime condizioni che possono favorire i disturbi del perineo e quindi già durante la gravidanza. Infatti in gravidanza abbiamo un cambiamento di tutti quelli che sono gli assetti sia per quanto riguarda l'assetto proprio posturale della donna, sia per quanto riguarda un problema proprio meccanico dell'utero gravido che aumenta di volume, sia anche per la situazione ormonale che cambia. Quindi vengono a cambiare i vettori delle forze che spingono verso il basso e tutto si riversa verso il compartimento anteriore, verso il compartimento urogenitale e non più in quella zona centrale del pavimento pelvico, il nucleo fibroso del perineo, dove esiste la maggior forza in grado di contrastare questi tipi di vettori. Non mi soffermo neanche su tutti i meccanismi del parto che possono portare a un disturbo del pavimento pelvico, ma sappiamo che anche una donna perineo integro, quindi ormai è chiaro una donna ha avuto una lacerazione, ci viene da pensare a tutti che ha avuto un problema del perineo, ma anche in donne che hanno perineo integri dopo il parto esistono dei meccanismi di distensione, di stiramento muscolare e anche dei meccanismi a livello delle strutture nervose, in particolare di stiramento dei plessi sacrali e del nervo pudendo, che comunque possono essere alla base di futuri problemi. Le lesioni ovviamente, questo viene da sé, non mi ci soffermo neanche. Quindi le conseguenze a breve e lungo termine del danno perineale fanno un pochettino riflette, insomma c'è un pochettino da piangere quando ci pensiamo, perché abbiamo un problema di prolasso, comunque di disturbo della statica pelvica in circa il 30% dei casi, disturbi tipo uroginecologico, quindi incontinenza urinaria, barra da stress oppure da urgenza in circa il 24% dei casi. Disturbi sessuali, la dispareonia a tre mesi coinvolge circa una donna su cinque che ha partorito, quindi una grossa fetta e un dolore pelvico comunque rimane a 3-18 mesi nel 10% dei casi. Spesso questi dolori poi vanno incontro a meccanismi di cronicizzazione, diventano veramente molto difficili da trattare. Per non parlare di disturbi colon proctologici, direi che una percentuale del 3-10% di possibilità di incontinenza fecale in una donna che ha appena partorito, quindi una donna giovane, è una percentuale decisamente da non sottostimare. Non mi soffermo neanche molto su quelli che sono i fattori di rischio delle disfunzioni del pavimento pelvico, che però, come dire, dobbiamo essere portati a ricercarli, perché riabilitazione non vuol dire soltanto mettersi lì e fare alla donna l'esercizio, come spesso ci viene da dire in ambulatorio, signora faccia finta di trattenere la pipì, il famoso stop pipì. Non è questo, la prima inizio della riabilitazione è proprio una prevenzione di queste cose, quindi un'individuazione di quelli che sono i fattori di rischio, che possono essere fattori generali, l'età, l'obesità, una paziente con broncopneumatia cronico- struttive, quindi spesso, che tossisce spesso così, una predisposizione genetica a cui abbiamo una sovrapporsi di fattori locali, che possono essere, spesso vediamo il parto, la gravidanza. Però non c'è neanche da disperare, perché comunque l'entità del danno, sì è vero, è un'integrazione di tante cose del fattore costituzionale, del trauma, ma abbiamo una possibilità di recupero ed è su questa che noi possiamo agire. E quindi è vero che spesso non possiamo evitare un danno perineale, ma questo può essere limitato, adottando proprio quelle strategie preventive e quelle terapie integrate di cui parleremo. Direi che una terapia per evitare l'incontinenza urinaria da sforzo nelle donne che vanno incontro al parto non è sicuramente il taglio cesareo, come vedete da questa slide, anche il 4,7% delle donne che non hanno mai partorito, delle nullipare, hanno un problema di incontinenza, ma soprattutto il 6,9% delle donne che non hanno mai partorito e che fanno dei cesari in elezione vanno incontro ad un problema di incontinenza urinaria. Quindi vuol dire, come vi dicevo poc'anzi, che già la gravidanza in sé per sé esercita un fattore importante, un fattore attraverso quella che è la rieducazione uroginecologica, che comprende l'impiego di diverse tecniche. Alcune di queste sono proprio tecniche di rieducazione neuromotoria, quindi la chinesi terapia pelviperineale, che può essere spesso supportata dal paio FIDMEC, poi le vedremo un pochino del taglio, però abbiamo anche altre possibilità, come una stimolazione elettrica funzionale, quindi una sorta di ginnastica che noi facciamo fare alla muscolatura, ma non soltanto con la stimolazione elettrica, noi andiamo ad agire proprio a livello nervoso e per esempio adesso c'è tutto un filone che va a valutare la stimolazione del nervo tibiale per ridurre l'incontinenza urinaria da urgenza e vi dirò di più, non l'ho scritto, però io che mi occupo di agopuntura vi dirò di più che un punto di agopuntura che si trova proprio lungo il ricorso del tibiale è utile per ridurre l'incontinenza urinaria da urgenza. Poi ci sono altre tecniche un pochettino meno note che è l'utilizzazione dei coni, il retraining vescicale proprio, poi la psicoterapia, tecniche di rialzamento e tutto un insieme di ginnastiche anche posturali che vedremo sta evidenziando come il pavimento pelvico non sia quella cosa sestante che sta lì, ma che sia integrato in tutto il sistema muscolo scheletrico della donna. C'è una metodologia che deve seguire chi si occupa dire educazione uroginecologica, è una metodologia di tipo sequenziale, quindi parte proprio da quello che è l'approccio proprio eccettivo della donna intravaginale fino ad arrivare a un'automatizzazione perineo-addominale della muscolatura. Quindi le finalità hanno proprio diversi step, chi fa riabilitazione perineale ha proprio, come dire, l'obiettivo di seguire degli step ben precisi. Il primo è proprio la presa di coscienza, come vi dicevo, e questo è quello un po' che differenzia la riabilitazione perineale dalla riabilitazione degli altri distretti muscolari, il rinforzo e la corticalizzazione dell'attività muscolare perineale e il ripristino degli automatismi. Di solito si costruisce una piccola perine al card quando si vede la donna in ambulatorio che va a distinguere degli scor, dei punteggi, quindi le donne che hanno uno scor basso possono essere lasciate, diciamo, lasciate in pace, quindi non sono, non hanno, sembra che non tragano, diciamo, vantaggio da nessuna terapia. Quelle che hanno uno scor intermedio possono essere avviate anche a un programma di riabilitazione perineale di gruppo perché queste sono donne che hanno già una coscienza della muscolatura del pavimento pelvico e quindi non hanno necessità di un training individuale che invece è, come dire, fondamentale nelle donne che si trovano nella categoria ad alto rischio. Per categorizzare le donne esiste tutta la presa in considerazione delle valutazioni dei fattori di rischio, che non sto qui ad avventicare perché un pochettino sono quelli notti e conosciuti. Vedete che ho evidenziato, per esempio, l'incontinenza urinaria da sforzo in gravidanza, questo è un fattore che dà un punteggio molto altro nella nostra perine al card, oppure l'incontinenza urinaria dopo una gravidanza, se abbiamo fatto un parto operativo o anche se abbiamo un peso fetale, una macrosomia fetale. Che cos'è, qual è lo scopo, cosa fa effettivamente in pratica la kinesi terapia pelvico e perineale? Beh, un esercizio regolare, così come un esercizio se noi facciamo dicipiti tutti i giorni, cosa facciamo? Aumentiamo il numero dell'unità motori che vengono attivate, aumentiamo la frequenza dell'eccitazione e aumentiamo il volume dei muscoli, quindi andiamo a creare una vera e propria ipertrofia. Questo fa sì che la kinesi terapia pelvico e perineale sia ormai diventata una terapia da considerarsi di prima linea in alcune condizioni, come dell'incontinenza urinaria femminile. All'inizio, quando ho iniziato a avere i primi apporti col pavimento pelvico, addirittura si diceva no, non dobbiamo far fare la ginnastica alle donne che hanno un'incontinenza da urgenza, perché si temeva che attraverso l'attivazione della muscolatura perineale si potesse andare a peggiorare l'instabilità detrusoriale. Non è così, perché è stato visto che proprio l'alterazione anche della stessa muscolatura della perineale, un cambiamento nella statica del pavimento pelvico si può riflettere come un'incontinenza urinaria da urgenza e quindi terapia di prima linea anche nell'incontinenza urinaria da urgenza o mista, per non parare di una terapia di prima linea già da adottare antepartum o nel puerperio. Questo è utile sia non solo per l'incontinenza urinaria, ma è stato dimostrata l'utilità anche nel caso di prolasso. Non solo, ma la chinesi terapia pelvico perineale svolge un ruolo importante anche nella, come dire, nella ripristino di una normale funzione sessuale della donna. Questo è uno studio che dimostra come il 39% è stato preso un gruppo di donne, alcune è stato fatto un studio caso controllo, alcune sono state sottoposte alla chinesi terapia perineale, altri invece non hanno fatto nulla. Il 39% delle donne che si sottoponeva a un training della muscolatura del pavimento pelvico andava incontro a un miglioramento della funzione sessuale rispetto a un 5% delle donne del gruppo di controllo. E questo coincideva anche con le donne che dicevano che alla visita proprio si sentiva fisicamente che avevano una muscolatura perineale più forte, quindi che avevano aumentato, diciamo, banalmente il PC test, magari da 0 a 1, era passato da un PC test sfavorevole a un PC test quasi normale. Abbiamo detto, questo, velocemente, qui, come dicevo, è soltanto una carrellata delle cose che possiamo fare. Il primo step è la presa di coscienza, che prevede diverse tecniche, a partire anche da tecniche di rilassamento della persona, fino alla tecnica cosiddetta di stretch reflex, quindi noi andiamo a stimolare particolari zone della cute perineale per avere un riflesso di tipo contrazione a livello della muscolatura del pavimento pelvico, che la donna può fare anche da sola attraverso un feedback tattile, un feedback visivo, acquisito in diverse posizioni. Ancora, quando noi cerchiamo di, come dire, impostare una presa di coscienza, è molto importante effettuare nella donna quel famoso PC test che va a valutare la forza contrattile della nostra muscolatura. Poi l'altra cosa che dobbiamo fare è eliminare le sinergie agoniste ed antagoniste. Anche in questo caso ci avvaloriamo di stimolazioni tattili e progettive perineali e di simultanei controlli che vengono effettuati in parte direttamente dalla paziente, tipo le diciamo contrai, però le facciamo mettere una mano sull'addome e diciamo attenzione, hai sentito la pancia muoverti, sì o no? Proprio la donna stessa che si rende conto se ha un'attivazione contemporanea anche della muscolatura antagonista e questo lo possiamo fare sia insegnare alle donne che fare noi insieme con le donne. Poi passiamo a un training individuale che comprende diversi esercizi fatti in diverse posizioni, questo proprio perché ogni posizione favorisce l'attivazione di una parte della muscolatura perineale piuttosto che non di altra. Possiamo avvalerci anche del biofeedback. Il biofeedback è quella, diciamo, quell'apparecchio che ci consente di fare vedere proprio alla donna nel momento in cui ha a contrae la muscolatura se sta facendo una contrazione adeguata, se sta contraendo una muscolatura sbagliata e questo attraverso una, come dire, una percezione di tipo o visivo o addirittura anche uditiva attraverso, diciamo, delle stimolazioni sonore e questo aiuta proprio la presa di coscienza, proprio perché attraverso diversi altri organi che sono la vista e l'udito noi andiamo ad attivare quella, a promuovere quella corticalizzazione proprio dell'attività muscolare del pavimento pelvico. Quindi quando è necessario proprio l'impiego del biofeedback, intanto all'inizio del programma reeducativo, quindi proprio, dicevo, nelle prime fasi, quindi nella presa di coscienza dell'attività muscolare in maniera tale da far vedere alle donne proprio che sia correttamente eseguita, perché se le donne continuano a eseguire l'esercizio in maniera scorretta, non soltanto questo non le aiuta, ma addirittura diventa controproducente e quindi viene, ci sono alcune indicazioni diciamo prettamente riconosciute che sono appunto al di là di questa deficitare presa di coscienza, anche quando abbiamo la presenza di contrazioni sinergiche, agoniste e antagoniste, per non parlare dell'inversione del comando perineale, un'ipovalidità perineale importante, quindi un PC test inferiore a 2 e anche nel caso di un'instabilità detrusolare di grado lieve è stato visto che può essere utile l'impiego del biofeedback. Abbiamo detto che un'altra tecnica è quella della stimolazione elettrica funzionale, questa può avvenire in diversi distretti, può essere intravaginale, può essere intranale, di superficie o come vi dicevo poc'anzi la stimolazione del tibiale e in questo modo noi possiamo avere la possibilità di interferire noi positivamente, quindi in maniera attiva, sulla coscienza della muscolatura perineale, andando anche a comportare un incremento del trofismo di questa muscolatura e anche un riequilibrio degli altri lati circuiti che vanno a regolare la funzione vescico-sfinterica. Quindi in questo caso le indicazioni sono di nuovo l'ipovalidità muscolare perineale, sia in presenza che in assenza di incontinenza urinaria o in presenza di prolasso di grado lieve, chiaro che se abbiamo un prolasso severo con la stimolazione elettrica funzionale ci facciamo piuttosto poco. Un'iperattività detrusoleale, in questo caso è molto importante la stimolazione elettrica, un'insufficienza sfinterica, ancora nel postpartum, però attenzione invece la gravidanza è una controindicazione, non si può fare la stimolazione elettrica in gravidanza, un dolore cronico pelvi perineale e anche durante una preparazione all'intervento chirurgico proprio per rendere più trofica la muscolatura, quindi se noi andiamo a operare con una muscolatura più forte, chiaramente anche il risultato nell'immediato del nostro intervento e la tenuta nel lungo termine sarà decisamente superiore. E anche qui abbiamo delle evidenze che ce lo dicono, non è che mi sono svegliata io una mattina e ho deciso che questa cosa era utile. E quindi ci sono diversi articoli che vanno proprio a suggerire l'importanza di questa tecnica nelle forme di incontinenza urinaria, nella forma di iperattività del detrusore e anche in generale proprio suggerendo che siano importanti proprio nella terapia soprattutto della incontinenza urinaria sia nelle forme da stress che da urgenza. E questo è proprio un articolo in cui parla proprio anche nello specifico, una review proprio che parla nello specifico della stimolazione del nervo tibiale, tra l'altro abbastanza recente, il 2013. Poi abbiamo parlato di altre tecniche che possono essere utilizzate dei coni vaginali, una rieducazione posturale globale o anche tecniche proprio muscolari generali come lo yoga. La percentuale di donne in India che soffre di patologie della statica e della dinamica del pavimento pelvico è estremamente inferiore, quasi vicino allo zero, rispetto alle donne italiane o comunque europee o comunque occidentali in generale, proprio perché esiste una maggiore coscienza della muscolatura dettata da situazioni diciamo culturali diverse perché queste donne semplicemente quando si fanno gli esercizi di yoga così si è abituati ad utilizzare questa muscolatura. E adesso anche il pilates sta prendendo un grandissimo piede, ci sono tantissimi lavori che proprio evidenziano come anche questa tecnica sia utile nel curare questo tipo di patologie. Brevemente soltanto mi fermo sui coni, questa è una co-crane che ci evidenzia non tanto, i coni sono praticamente dei piccoli ogulettini di pesi diversi che noi facciamo inserire in vagina alla donna e mentre la donna li ha inseriti può partire da fare esercizi con noi fino alla possibilità, questo ci dà di fare degli esercizi a casa. Le donne partono col cono di peso più basso, quando vedono che riuscendo a stirare così riescono a mantenere il cono in sede e non si trovano caduto, allora passano al cono di peso superiore, fino a questo proprio va ad attivare soprattutto la parte tonica della muscolatura, non tanto la contrazione fasica ma soprattutto la contrazione tonica. qui non è che ci sono delle evidenze che questi sono più utili rispetto ad altre cose, però noi quando facciamo riabilitazione del pavimento pelvico, proprio perché è un problema fondamentalmente culturale, come vi dicevo poc'anzi, le donne spesso si stufano, quindi abbiamo una scarsissima compliance da parte delle pazienti che vengono avviate ad un programma di riabilitazione, per cui in questa review dice bene mettiamoci dentro tutto nella speranza di trovare il metodo che è più gradito a quella paziente, sperando che quindi lo porti avanti per più tempo, perché come tutti i programmi di rinforzo della muscolatura hanno un'importanza nell'immediata, ma è importante proprio mantenere l'allenamento. Sono stati valutati anche diverse norme comportamentali appunto dall'educazione vescicale, così queste sono utili un pochettino nella valutazione globale della paziente, però non possono essere utilizzate da sole, non sono sufficienti per risolvere i problemi. Quindi abbiamo detto, quando raccomandiamo soprattutto la fisioreabilitazione? Sicuramente nel postpartum, ma come vi farò vedere da alcune evidenze dopo, si dovrebbe iniziare già da 15-17 settimane di gravidanza, nelle fasi anche precoci della disfunzione perineale, quindi quando ancora non abbiamo un problema, e anche nelle pazienti in attesa di chirurgia pelvica, e questo è una cosa che ognuno di noi, qualsiasi ginecologo appunto che visita una donna, deve pensarci. Come vi dicevo prima, la riabilitazione non è soltanto quando io mi metto lì e faccio fare gli esercizi alla donna, la riabilitazione è proprio una tentativa di limitazione del danno perineale, proprio per cercare di passare da quel danno inevitabile che abbiamo visto prima, drammatico, gravidanza e parto, con tutti gli esiti che ci facevano un po' piangere che vi dicevo prima, fino ad arrivare al danno evitato o comunque il più limitato possibile. Quindi si parte già da interventi di sensibilizzazione, un miglioramento anche dell'assistenza ostetica di per sé quasi riabilitazione, un'identificazione dei fattori di rischio perineale, fino ad arrivare alla riabilitazione proprio come è normalmente intesa. Questo è interessante, l'ho riportato perché questi dati mi hanno stupito molto. Praticamente in questo consultorio in America hanno parlato con delle signore, hanno visto che l'85% delle donne, semplicemente perché avevano fatto questo colloquio in cui le veniva raccontato come vanno utilizzati in modo corretto i muscoli del pavimento pelvico, in cui vi venivano raccontati degli esercizi, queste donne erano riuscite a farli senza necessità di nessun altro tipo di istruzione. Non soltanto, ma anche quella parte che non riusciva a farlo, già dopo un colloquio successivo, un 78% di questo 15% che non riusciva col primo colloquio a avere una percezione della muscolatura del pavimento pelvico, ci riusciva col secondo e quindi è importante proprio anche semplicemente parlare, raccontare alle donne cosa sono questi muscoli e come possiamo farli funzionare. È molto importante anche nella prevenzione, ha acquisito una grandissima importanza tutte le varie tecniche del massaggio perineale. Questa review della letteratura, questa Cochrane del 2013, con anche questa piuttosto recente, ci racconta che il massaggio perineale riduce i traumi che richiedono la riparazione, riduce la necessità di ricorrere un'episotomia, quindi riduce anche il numero di puerpere che devono essere trattate per una problematica nel puerperio, riduce la percentuale anche di più ripare che hanno dolore a tre mesi dal parto, agisce un pochettino di meno sul dolore per le nullipare, c'è scritto che bisogna attuare ulteriori studi per cercare di capire il motivo, non modifica la necessità di un parto operativo perché spesso il parto operativo è dato ad altre condizioni come può essere un tracciato patologico, insomma altre situazioni e non incide però globalmente sull'incontinenza urinaria a distanza o l'incontinenza alle feci e ai gas, quindi è proprio più un'azione locale che comunque già il fatto di ridurre il dolore nel puerpere o la necessità di riparare delle lesioni già ha un suo vantaggio. Questo massaggio può essere adottato e favorito anche dall'utilizzo di dispositivi che stanno entrando in commercio che possono aiutare le donne proprio a fare un esercizio di rilassamento della muscolatura perineale a domicilio. E poi l'altra cosa importante anche su questo non mi soffermerò a parlare dell'assistenza ostetrica perché anche di questo ce ne vorrebbe una giornata intera e forse non basterebbe, però vorrei sottolineare alcune cose di questa slide che ho messo. Intanto proprio come noi possiamo durante il travaglio di parto andare a limitare il danno e anche noi ginecologi, io mi arrabbio sempre tantissimo quando vedo suturare le lacerazioni in delle maniere molto poco ortodosse, mi arrabbio sempre molto e lo dico sempre con i ragazzi, guardate la sutura della lacerazione è fondamentale, non soltanto per l'immediato, il dolore e tutto quanto, che già questo di per sé è una, come dire, uno stimolo a fare una sutura il più corretta possibile, ma proprio anche per il futuro. E questo è un pochettino un suggerimento. È vero che esiste la patologia, il trauma del pavimento pelvico, però è vero che è anche nostro compito proprio soffermarci e pensare a tutte quelle che possono essere le strategie necessarie per poterlo prevenire. E dopo, dopo, quando si è già evidenziato nel postpartum, abbiamo una donna che ha dolore, non piangiamo sul latte versato, ma ci buttiamo su quella che è la rieducazione perineale con tutti quegli step che vi ho fatto vedere fino adesso. Una volta si diceva aspettiamo sei, otto mesi dal parto, no, sei, otto settimane dal parto, no. È chiaro che se una donna ha subito una lacerazione è necessario aspettare che abbia ripreso una, come dire, normalità a livello proprio della sensazione del dolore, a livello proprio locale, quindi è vero che magari in queste donne anche 30-40 giorni, ma donne che non hanno subito lacerazioni importanti e che non accusano dolore a livello perineale così, ma che magari hanno difficoltà a trattenere l'urina nel postpartum, possono essere avviati a un programma di riabilitazione immediato, perché è vero che la nostra muscolatura ci mette circa sei mesi per riacquistare, diciamo, la completa, autonomamente, il completo, come dire, ripristino di tutte le sue funzioni, però è vero che se noi agiamo fin dall'inizio, riusciamo ad avere dei risultati decisamente superiori. E questa è anche una review di letteratura della Cochrane del 2013, come anche qui ci suggerisce come sia importante questo tipo, questo argomento, perché circa un terzo delle donne perde un'urina dopo il parto e circa un decimo, quindi non poco, perdono addirittura feci e quindi è come sia importante avviare un programma di training della muscolatura del pavimento pelvico, non soltanto dopo il parto, ma fin dalla gravidanza. Come vi dicevo, in questa Cochrane viene proprio stressata da partire dalla quindicesima, diciassettesima settimana. Indipendentemente dal fatto che queste donne abbiano altri fattori di rischio su cui noi non possiamo intervenire, tipo la macrosomia fetale, è chiaro che se una signora ha partorito un figlio di 4,5 kg o 5 kg, ormai non glielo possiamo rimettere nella pancia e decidere di effettuare un altro tipo di modalità di parto, però possiamo iniziare il prima possibile, cioè non appena la compliance della donna ce lo permette, un'attività di training della muscolatura. Questo è un altro studio che mi è sembrato interessante perché proprio, come dire, va a sottolineare quello che vi ho detto poc'anzi. Questo hanno in questo studio del 2014, hanno preso un studio caso controllo randomizzato, sono state prese 120 donne nel gruppo dei casi, 110 nel gruppo dei controlli, hanno iniziato a fare esercizi del pavimento pelvico da partire dalla quindicesima, diciassettesima settimana di gestazione fino a 10-14 settimane dopo il parto e sono stati ottenuti dei risultati decisamente importanti, da cui è stato preso in considerazione soprattutto l'incontinenza urinaria da stress, che è una delle patologie del pavimento pelvico che più frequentemente si manifestano nel postpartum, però vedete che nel gruppo dei casi, quindi nelle donne trattate, la percentuale di donne che andava incontro ad un'incontinenza urinaria da stress nelle 10-14 settimane dopo il parto era decisamente inferiore rispetto al gruppo dei controlli e non solo, ma in quelle donne in cui si presentava un'incontinenza urinaria comunque era molto più lieve rispetto alle donne che non erano state trattate. Ancora evidenze ci sono che la riabilitazione serva nell'incontinenza urinaria in generale, anche nelle donne che non hanno partorito, nelle donne che magari sono in menopausa, insomma, e questa è una review della letteratura del 2014 che proprio ci dice questo. L'altra cosa importante da sottolineare è che le donne che vengono trattate non solo oggettivamente hanno una riduzione dell'incontinenza urinaria, ma soprattutto anche soggettivamente riferiscono un deciso miglioramento della qualità di vita. Il problema, come vi dicevo prima, sono gli ultimi punti che trattiamo, è un pochettino la compliance di queste donne, perché nel postpartum ce l'immaginiamo, la donna appena partorito, c'è il bambino a casa, siamo tutte concentrati sul bambino, magari abbiamo un po' difficoltà all'allattamento e tutto quanto, ma non solo, perché qui, fra virgolette, uno dice c'è qualche meccanismo, diciamo anche un pochettino, chiamiamolo naturale, che porta queste donne a essere un pochettino meno propense a pensare a se stesse. Però anche nelle donne di una certa età, nelle donne in menopausa, che tutto sommato non è che abbiano tutte queste, diciamo, attività esterne, comunque è stato visto che il problema grosso della chinesi-terapia pelvi-perineale, anche una volta che le donne, perché cosa prevede, come vi dicevo prima, l'esercizio costante, anche una volta che io ho preso l'esercizio, poi lo devo fare a casa se voglio continuare, comunque devo mantenere l'esercizio fatto, perché altrimenti io posso anche andare in palestra un mese, faccio un bicipite così, se poi dopo per dieci anni non faccio più niente, ho di nuovo la prova del sale, di nuovo fallisco, insomma, è uguale, è la muscolatura del pavimento pelvico. E quindi sono state adottate tante strategie, tipo diamo a queste donne un diario da fare a casa, tipo diamo a queste donne dei video con cui possono fare ginnastica assieme, tutto quanto, addirittura, io in letteratura leggevo e mi sono molto divertita, vi invito ad andare a leggere che addirittura alcuni hanno previsto dei programmi con la Wii Fit, quindi insomma, c'è di ogni, insomma, per cui veramente è molto divertente questa parte della valutazione. Comunque le donne, a un certo punto, pochissime di queste donne mantengono un'attività costante a domicilio. Sostanzialmente soltanto le donne che almeno una volta alla settimana vengono riviste da un operatore, allora soltanto in quel caso si riesce in un qualche modo ad avere una compliance accettabile che ci permetta non solo di ottenere buoni risultati, ma di mantenerli anche nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.